Archiviato il passaggio Coppa Italia, il rende di Bruno Trocini riprende la preparazione sull'erba del Lorenzo. Il tecnico bianco-rosso sta proseguendo sulla scia aperta nel ritiro. Intanto Trocini tira le somme della Coppa Italia e del campionato che attende i suoi. Due buone partite con risultati diversi ma di continuità nel senso di prestazione, nel senso che in entrambe le partite la squadra ha giocato bene, ha sofferto poco e la crescita è stata anche costante per quello che riguarda i giocatori arrivati successivamente tipo Zangaro, Mandarano, Crispino e qualche altro, ai quali è stato possibile attraverso la Coppa Italia crescere e arrivare al livello degli altri. Sono contento, il gruppo ha una base, quella dell'anno scorso, sana, valida, sia dal punto di vista tecnico che umano soprattutto per cui l'inserimento dei nuovi è stato molto semplice. Novità arrivano invece dal settore giovanile con Aniello Parisi che abbandona le vesti di calciatore per approdare per la prima volta sulla panchina da tecnico della Juniors Bianco-Rossa e sposando appieno il progetto del Rende. C'è stata comunque una scelta pensata e combattuta perché avevo voglia ancora di giocare però appena il presidente Coscarella mi ha dato l'opportunità mi è sembrato più naturale passare alla panchina e iniziare una nuova carriera.